Musica Bella ragazzi siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo gameplay eccoci qui con il derby romano, l'ultimo di questa stagione e speriamo di vincerlo così come è stata l'andata così come del resto ho sempre vinto quella Roma a parte una partita partita sciacurata e sculata secondo me c'è stato il momentum in quel momento che età mamma mia che età che bomber la palla per il del postica postica lui ha fatto una formazione molto realistica giocherà sicuro postica a me piace mi sa che è piaciuto postica 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 mamma taci ANDREVO CHEITO 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 mamma mia subito Lazio segna bam bam incredibile RailGalax dice grande Xenia che hai segnato qui non va bene eh vai così Lazio dopo 6 minuti non va bene non va bene no 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 fuori gioco mo ma no no dai mi un po gnegnegne su ragazzi su alla prima volta che mi vedete con gli struttmann bellissimo dentro per totti totti sì c'è l'hai di Aic ancora Stiavic e c'è il 2 a 1 c'è l'1 a 1 perchè è bello che la tapp sta sotto il pallano oh miro close miro close che cazzo close close no è postiga mortacci mia mamma mia frottmann oh lo manda mamma mia Gervinio va in porta va in porta eh ma troppo c'ha uno stop di merda Gervinio come se ne va oh oh no no si fuori gioco mazza che culo no eh Marchetti rinvio farne Marchetti lungo per club pianice la Roma ha preso campo eh ragazzi sii palla per l'Aic è buona no ma com'ha fatto eh Marchetti Marchetti è forte molto molto forte quindi ma qua non devo tirare di precisione ho sbagliato cuore e mezzo si uh Stratman e Giorso Guani vai porca ma non a lui ma che stai ma che cazzo fai pianice mai con oh Lulic cazzo cazzo Lulic lo manda a close mortacci ma che cosa hai preso qua ma andate dentro gli Aic ma andate dentro gli Aic ma andate dentro gli Aic ancora Gaeta ma che cazzo fai l'Alasio non c'è più è sparita dal campo l'Alasio siiii no siiii no no Gervigno 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 rientra Gervigno non lo prende nessuno rientra ancora Gervigno ancora lo manda in porta palla per De Rossi De Rossi appoggia per Totti che vede dentro ancora De Rossi il tiro ma che azione avevano fatto questa doveva essere premiata doveva essere premiata ho sbagliato col gol yai no ma che fin il primo tempo la Roma è soddisfatta della propria prestazione perchè pensa di riprenderla questa partita vabbè dai più in meno poi sta giocando a Galazzini e te ragazzi diamoci la tua spossa oh Keita Keita also no eh eh E Mamma mia ragazzi, inchino, inchino, inchino per questa azione, inchino Mamma mia, Gerviglia arriva da dietro e tac, mamma mia Si così, vai così, questa partita non può essere pareggiata Totti Lo manda dentro, si Vaffanculo, come gioca la Roma in questo momento, come gioca ragazzi, come gioca Ah, come gioca Totti, mamma mia, che muro, mamma mia Non l'avevo poco visto Mamma mia, bellissimo, lancio lunghissimo, la prende, la prende, la prende, che cazzo Ma va fuori dell'altro, la prende pure questo, che cazzo, che stanno giocando, tamburello Oh, che rovesciata, no Ma che è, tamburello Vai di Aish Ancora 8 minuti da giocare Manda Totti Manda Totti E manda Gerviglia Riprova il calonetto E lo fa E lo fa E lo fa Mamma mia Mandiamo tutti quanti Vai Cazzotto Dai così Che cosa hai fatto Mamma mia Gerviglio, che soddisfazione che mi dai, mamma mia Dai così, all'ottantaquattresimo, chiudiamo i giochi Tutti a casa Regia, vai a casa, vai Vai a casa E mercoledì ci andiamo a prendere anche la coppa Su Dai così Mortacci tua Ma mortacci tua Dai che ripartiamo anche in contropiede Dai Dai che c'è Totti in contropiede Dai Totti che sono squilibrati Sì così Sì così Ma non così Mamma mia Stratto No È mancino Mannaggia Stratto No Perché io Grosso Mamma mia Solo Keita su questa squadra Tutto su Keita Sì Bellissimo In mezzo per Closy Closy No vabbè No vabbè Non ci posso credere Pjanic Andiamo a fargli il quarto Su Vai Iaic Vattene via Oddio no perché No no dai vabbè Non è possibile No No Li Iaic Tomu cross è semplice Non hai capito Angolo ma non si batte Mi sa Se batte Se batte Se batte Lo voglio fa Il quarto Lo voglio fa Vai Castan Basta Dai Bellatia Che Rigore Ricore Davi Ricore Ma basta Io non gioco più No Ah vabbè Ma dai Tutto in questi ultimi minuti Finisce qui Ciao a tutti Da questa Fattacica Partito Giosi Cerviglio Si Noi ci vediamo alla prossima Rosica Rosica Vabbè Comunque Ci vediamo alla prossima Squadra È bella Ciao